Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, avrete notato l'inquadratura. Allora, dei giorni non mi sto trovando tanto bene a squishare gli squishy, quindi vorrei far squishare così gli squishy, come Lady Giorgia e Erika Kawaii. Così, facendomi vedere solo le mani. Ma non preoccupatevi che domani farò un video che mi farò vedere tutta. Quindi certe volte farò, cioè per gli squishy farò che mi farò vedere solo le mani. Mentre, per le altre cose mi faccio vedere tutta di faccia. Allora, prima di incominciare, per far vedere i miei squishy che sono qui, vi vorrei far vedere lo schifido al Gummis Rhyme Superstar Mega Glitter che ho comprato l'altro ieri, in profumo silver, cioè diamante. Le bolle, le bolle, le bolle, la gelatina, la gelatina, la gelatina. Però, visto che io poi, una volta vi farò vedere, tipo, delle mie creazioni in colla a caldo, creazioni in resina, in colla a caldo e in plastilina, vi farò vedere sempre come faccio vedere gli squishy. Sì, sì. Guardate, io vado ad adorarlo. Oh mio Dio, oh, 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 oh mio Dio. Il profumo di crema Cien, non so se la conoscete. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ah, è troppo, è troppo, è troppo, è troppo, è troppo, è troppo. No, cioè, è profumato. Comunque, le regole, dai otto anni in su, dai nove. Ah, vabbè. Guardate, guardate, li faccio, guardate, li faccio. Perché il mio Dio regolo sta cambiando continuamente il colore? Non lo so. Vabbè. Adesso passiamo agli squishy. Allora, c'è questo squishy molto carino, che devo dire che mi piace tanto. L'ho pitturato, ho fatto tutto, io li ho fatti con la spugna. Quindi credo che non saranno proprio slow rising, però questo l'ho squisciato ed è slow rising, guardate. È slow-ra-i-ving, è troppo. Solo se lo squiscio così, però, non so perché. Troppo slow rising. Poi c'è questa balena nera, l'ho colorata nera, perché appunto poi il marrone mi era anche finito, quindi, come lo devo fare? Io ho fatto l'occhio azzurro per essere più bello. E solo qui si può squisciare, perché guardate, qui non si squiscia. Solo qui. Allora, Poi c'è questa cake roll nera e gialla, molto carina. Lo so che si doveva fare anche dietro, ma a me mi piaceva solo avanti, e quindi così, la rimango così. Non è tanto slow rising, cioè non è proprio slow rising, e questo è il concetto. Poi c'è questo toast, che non so perché, il marrone è diventato nero. Cioè non lo so perché. Allora, comunque gli occhi azzurri è questa bella boccuccia. E non è slow rising. Vedete? Non è per niente. Slow rising, peccato però è. Poi c'è questa tortina bianca. Allora, qui volevo fare una fragolina, ma è uscito in guacchio, quindi ho iniziato a spalmare. E ho fatto anche gli strati, quindi diciamo che è alla fragola la torta. Guardate, cioè non è proprio, oh mio Dio sta perdendo tutte le cose. Non è proprio slow rising, io sono qui un pochino. Per colpa, se lo spesso così, no, così diciamo. Per colpa di questi strati, però era la più slow rising. Allora, poi c'è questo fulmine, ah no, ecco, molto carino. guardate quanto è slow rising. Ah, non ho anche visto slow rising. Sì, sì. Scusate. Qui diciamo, aspettate. Vedete, guardate qua, invece. poi c'è questo riacomo con gli occhi azzurri e il musetto. Diciamolo, non è morbido. Non è, uff, la scusate. Non è veramente morbido, però è tanto carino, 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 carino. E vabbè, questi sono i miei squishy. Fatevi sapere qual è il vostro preferito. Allora, il mio preferito è upla. Sono due, in verità. questo qui e questo qui. Questo, carino, e quest'altro. Fatevi sapere qui e giù nei commenti qual è il vostro squishy preferito. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, uno squishy! Vabbè, ciao! Ciao!